Albero di Natale Io con il fai da te non sono assolutamente pratica, non sono assolutamente brava quindi questo albero è fattibile da chiunque ve lo posso assicurare considerando anche che ultimamente abbiamo perso tantissimi alberi, tantissimi boschi a causa del maltempo questa è una ragione in più secondo me per non comprare gli alberi veri ma usare un po' di fantasia e materiali di riciclo per realizzare il proprio albero, le proprie decorazioni soprattutto perché a me gli alberi, quelli di plastica, finti, verdi, non piacciono moltissimo quindi credo che questa sia una valida e simpatica alternativa se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, come sempre iscrivetevi al canale cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video che caricherò sul canale seguitemi sui social, facebook ma soprattutto instagram che aggiorno anche più volte al giorno quindi se volete fare un po' gli affari miei, vedere le mie fotografie, vi aspetto su instagram se realizzate l'albero fatemelo sapere, quindi scrivetemi, lasciatemi un commento taggatemi su instagram, meno male sono golosa o Elena Policella mi trovate su instagram e mi farebbe molto molto piacere, un bacione e alla prossima! come prima cosa, beh, come prima cosa dovete andare nel bosco e trovare dei legni, dei rami secchi caduti dagli alberi di varie grandezze una volta a casa semplicemente prendo le misure con il metro, con il centimetro di dove voglio tagliare questi rami perché vengono appunto a forma piramidale, a forma di albero poi con un seghetto taglio in corrispondenza del segnetto che avevo realizzato sui sui legni questo ramo ho deciso di scortecciarlo, quindi utilizzando un vecchio coltello da cucina semplicemente tolgo un po' della corteccia e di muschio e con della carta vetrata cerco di renderlo un pochino più liscio a questo punto riprendo le misure, sempre aiutandomi con un righello dei punti in cui voglio che passi il mio cordino, la corda e semplicemente faccio dei nodi, annodo la corda intorno ai legni tirandola bene, se avete gli strumenti potete anche forare i bastoni e passare la corda all'interno dei fori però ho visto che questo metodo, molto semplice e alla portata veramente di tutti è anche molto valido, quindi semplicemente io avvolgo intorno a tutti i bastoncini la mia corda, sempre tenendola ben distesa e ben tesa all'apice dell'albero, quindi nel pezzettino più piccolo di legno inserisco una vite a uncino e questo sarà appunto il mio gancino per tenere appeso l'albero come ultima cosa metto un punto di colla a caldo ma potete utilizzare tranquillamente anche la colla vinilica la semplice colla vinilica a fissare il punto dove ho fatto il nodo su ogni bastone non resta che decorare io ho fatto il labkuchen per decorare l'albero e vi lascio qui nelle schede e in info box i link al video dove vi spiego come farli e poi ho fatto anche dei semplici angioletti con i tappi di sughero dei nastri di tessuto e della colla e ho colorato delle pigne che ho sempre trovato nel bosco con degli ombretti glitterati che non usavo più quindi semplicemente ho spennellato le pigne con della colla vinilica e ci ho rovesciato sopra i glitter ed ecco finalmente pronto l'albero a cui non potevano aggiungere una sfilza di lucine a led ora non resta che ricevere un sacco di regali grazie a tutti grazie a tutti